io penso che adesso sto valutando tantissime cose dicono la mia fortuna e sfortuna che comunque in tutti questi anni mi hanno sempre voluto bene tutti e anche per il prossimo anno se decido di continuare ciò un paio di offerte diciamo nel mondo in cui sono e nel mondo della superbike il mondo della superbike penso che sia un bel mondo però io ho fatto una scelta e continuo a seguire la mia scelta che non non voglio andare in superbike non perché scredito la categoria che penso sia una categoria bellissima perché ho fatto una carriera nel mondo in cui sono e voglio finire nel mondo in cui sono però c'è anche il punto negativo è che logicamente essendoci tanti piloti giovani con tanto talento chiaramente penso che sia giustissimo le case cercano di investire su piloti giovani e penso che sia assolutamente giusto quindi sto veramente valutando un po e penso che adesso martedì partiamo per l'america e settimana prossima saremo a misano a misano dichiarerò ufficialmente quello che farò da grande